Paolo Ziliani giornalista del fatto quotidiano tifoso della Juve correggetemi se sbaglio vedi a differenza nostra e non siamo nei tribunali non siamo accusati di illeciti loro che lo sono hanno gli stessi tifosi hanno gli stessi tifosi che li attaccano Moncalvo su certe cose ma perché sono persone serie che vanno al di là della palla che entra dentro perché eh abbracciano una certa etica moralità una certa dignità a differenza di tanti altri tifosi giuventini che non sanno cos'è la dignità cos'è la lealtà cos'è lo sport loro hanno Ziliani Moncalvo Travaglio e si vergognano di fare Juve hanno personaggi che erano tifosi o che qualcuno lo è ancora ma che non mette la testa sotto la sabbia attenzione perché è giusto perché qualcuno secondo me tante cose non le sapeva e poi si trovano ovunque ma è giusto rimarcarle per farvi capire noi da chi siamo attaccati nei suoi profili social Paolo Ziliani la parentopoli di Gravina che lo definisce un amico della Juve perché lui definisce Gravina un grandissimo amico della Juventus qual è il gioco sporco di molti di molti giuventini sapendo benissimo che Gravina ha contribuito a salvarli ora si risosciano da Gravina e lo vorrebbero fuori forse perché non lo so e questa è una mia supposizione forse perché hanno paura qualcuno parli non parlo di Gravina parlo in generale che qualcuno si penta di cosa avete paura perché vi dissociate la Gravina che vi ha salvato l'ha detto anche lui ho salvaguardato il brand Juve qual è la vostra paura Gobbi ditemelo che paura avete Gravina FIGC Ziliani nel suo profilo social FIGC Juve politica e giustizia sono una cosa sola Ziliani dice tutti i figli che Gravina tutti i figli di Gravina che ha assunto in FIGC Paolo Ziliani dalle sue pagine social continua a segnalare tutte le coincidenze e anomalie della gestione FIGC da parte di Gabriele Gravina lo dice lui e non lo dico io mescolando come al solito notizie poco battute dai media attenzione notizie poche poco battute dai media e sarcasmo le accuse del sistema al calcio del giornalista del fatto quotidiano sono durissime scrive il giornalista dovete sapere che agli occhi di Gravina Antonio Tagliani è una specie di Madonna di Lourdes e non solo per il fatto di essere tifoso della Juventus ovviamente poteva non mancare un tifoso della Juve in FIGC ma ma ovviamente si fa per scherzare eh ci mancherebbe al punto di aver portato il regalo al vice premier degli Emirati Arabi Abdullah bin Zayed nel corso di un incontro ufficiale tra governi di Abu Dhabi una maglia personalizzata della Juventus attenzione gli ha portato la maglia della Juve questo è nella FIGC proprio nei giorni in cui Gravina era impegnato a salvare il culo a madama dai processi sportivi con il patteggiamento farza cancella illeciti questo gli porta la maglia della Juve mentre scrive Ziliani Gravina era impegnato a salvare il culo a madama da processi sportivi o il patteggiamento farza cancella illeciti lo definisce una farza il patteggiamento non io lui capra Tagliani per Gravina è molto di più una specie di amuleto un'assicurazione sulla vita perché mentre due terzi del governo in carica Lega e Fratelli d'Italia dopo la grandinata di scandali ha investito il calcio italiano l'ultimo quello dei giocatori che scommettono hanno ufficialmente chiesto e ancora chiedono le dimissioni di Gravina l'uomo che guadagna il doppio di Giorgia Meloni tutti i figli di Gravina che ha assunto in FIGC dice poi scrive Ziliani tutti i figli di Gravina della FIGC Giorgetti Tagliani e anche Sica il giudice che benedisse il patteggiamento Juve ci siamo capiti poi dopo continua ancora quindi io vorrei capire ma voi vi dovreste vergognare prima di parlare dell'Inter prima vergognatevi e poi parlate dell'Inter io sono stato uno che ha litigato con tantissimi interisti perché non mi è mai piaciuta la gestione Zang ma l'abbiamo sempre certificata anche con che gente che lavora con la legge fa le live con noi come una gestione totalmente legale che rientrava nelle norme tra l'altro poi è anche vero che noi teristi che paghiamo le tasse bisognava di bisogna dire una cosa che abbiamo sostenuto indirettamente ragazzi anche la Juventus perché perché la Juventus gli utili li privatizzava la Fiat non la Juventus scusami la Fiat gli utili li privatizzava mentre avevano i debiti cosa faceva la Fiat li socializzava i debiti con la tua busta paga hai concorso anche te a pagare qualche costina a loro di sicuro per tanti anni poi vogliamo parlare anche della chat della chat whatsapp Juventus in che è sempre lui la scrive Juventus Chiellini è lasciato whatsapp che rischia di inguagliare il club qui va bene questo è dove addirittura Chiellini dice delle cose vado a parlare io ragazzi filmo io ci penso cioè vogliamo continuare ancora a girare a razzolare in questo in questo letamaio cose che schivano loro non che dico io leggendo dal lettore dico ma che letamaio ma che è sto schifo lo dico dal lettore posso esprimere un'opinione dal lettore o non è legale è legale te lo dico io dal lettore leggendo quello che dice Ziniani tra l'altro non mi sembra sia radiato mi sembra non è uno di quelli che scrive sulla carta igienica ma è uno che scrive sui giornali sul fatto quotidiano dal lettore se leggo questa roba dico ma che è sto schifo il problema è che viene riportata con delle prove leggendo quello che scrive Ziniani quando un tifoso della Juve vi attacca voi interisti vi dovete vergognare per loro che vi attaccano ciao grazie a tutti